L'importanza e il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dagli agenti della polizia penitenziaria nelle carceri italiane, oltre all'impegno del governo affinché si riesca finalmente a risolvere una serie di annosi problemi. Questo al centro della visita nel carcere di Benevento del sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro delle Vidove. I problemi ci sono e sono tanti. Io sono stato protagonista di un emendamento di maggioranza per l'assunzione di mille agenti della polizia penitenziaria, una goccia nel mare, ma è un segnale, uno dei tanti semi che stiamo piantando. Sappiamo che abbiamo un problema di organico, sappiamo che abbiamo un problema di coprire le carceri d'Italia di un direttore e un comandante, non con direttori e comandanti a scavalco. Il sottosegretario di Stato con delega alla polizia penitenziaria ha incontrato i sindacati, i vertici della casa circondariale, a partire dal direttore Gianfranco Marcello, con il quale l'esponente del governo Meloni si è complimentato per la gestione dei momenti di tensione registrati qualche giorno fa nel carcere Sannita. L'ottima operazione dell'altro giorno qua è anche perché c'è un direttore che è direttore di questo carcere, c'è un comandante della polizia penitenziaria che è comandante della polizia penitenziaria di questo carcere. Sanno con chi hanno a che fare, sanno come intervenire e se sanno con chi hanno a che fare e come intervenire riescono nella maggior parte dei casi a riportare ordine, legalità e sicurezza pur senza usare la forza che pure dovrebbe essere legittima. Ancora gli uomini e le donne della polizia penitenziaria mi chiedono un protocollo di sicurezza con regole di ingaggio chiare quando devono entrare a sedare una sommossa e ci mancherebbe ancora.